Sapete che mi dovete soffortare come sindaco per i prossimi 5 anni e mezzo, mi dispiace, però ve ne pari di andare a giù, grazie, non volete scherzare, è un po' individuale. Sindaco, si fa un augurio da napoletano e non da sindaco per questo Natale? Ma tanta serenità e un sorriso, un sorriso per noi tutti, per noi che restiamo a Napoli, ci restiamo perché amiamo profondamente la nostra città, negli ultimi tempi vedo qualche sorriso in più rispetto alle ferite, alle sofferenze, insomma una città che è ripreso a lottare con convinzione, quindi questo però è un Natale di serenità, di armonia e vedo anche tanta solidarietà. Questo è un altro aspetto che mi piace molto sottolineare, una Napoli molto solidare. Lei ha fatto una battuta nell'incontro dei cronisti e alla fine mi dovete sopportare altri 5 anni. Era una minaccia? No, 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 ho fatto una battuta. Ho fatto una battuta, è chiaro che chi si candida alle elezioni conta di vincere, altrimenti non è che uno si candida e debba perdere. Quindi siccome ci mettiamo la giusta determinazione facciamo di tutto per poter vincere, però ho voluto soprattutto sottolineare come sono stati anche 5 anni di un bel confronto con i giornalisti napoletani, un confronto dove è nato un rispetto secondo me reciproco dei rispettivi ruoli, anche un rapporto umano che secondo me è una città così difficile da raccontare e da governare. Creare legami umani è sempre un plus valore al di là delle opinioni che ognuno ha di noi tutti. Credo che questo sia importante, credo che è anche migliorato il rapporto, ci siamo conosciuti bene e poi è bene avere anche un approccio leale, costruttivo anche nella critica, cioè quando c'è qualcosa che non va è giusto che lo si dica al sindaco, così quando il sindaco vede, legge o non legge qualcosa che vorrebbe leggere è giusto che lo dica con questo senza aver nessun atteggiamento di supponenza nei confronti di chi fa in piena autonomia, indipendenza e proprio lavoro. Quindi credo che questo vada sottolineato. Noi confidiamo molto nel 2016 che ci sia un racconto vero, autentico della città di Napoli e che nella prossima ovviamente campagna elettorale ci sia un atteggiamento come sono certo che accadrà, assolutamente corretto da parte di tutti i giornalisti della nostra città. Io volevo sapere se è possibile solo un ricordo positivo, un ricordo proprio negativo che lei non riesce a cancellare di questo anno che sta affinando. Il ricordo negativo sono sempre le persone che hanno subito qualche tragedia che da sindaco è dovuto e voluto incontrare. Lacrime, sofferenze, tragedie. Perché chiaramente chi fa il sindaco si carica del momento bello della festa, ma anche di tanti momenti duri. Il momento più bello, forse perché è più vicino, questi giorni pre-natalizi. Camminando per le strade della nostra città vedo più ottimismo. Quindi vuol dire che questa città ci sta credendo. Quindi mi avvio questo fine anno 2015 con grandi motivazioni. Non scusate.